Ciao! Allora, l'ultima volta è stato un dolce, oggi facciamo una pasta, perché tutti voi mi chiedete di fare qualcosa di salato, quindi faccio una pasta veloce, velocissima, con ingredienti buoni che ricordano l'estate, la Sicilia, il mare, sempre il mare, tutta il cipollotto. Ho scoperto di avere una passione per questo, quindi lo sto usando nelle mie ultime ricette, praticamente o comunque sempre. Poi abbiamo pomodori, olive, granella di pistacchio, scorza d'arancia e prezzemolo per finire e i re, i gamberetti. Quindi, l'acqua già sta bollendo, sto bollendo. Le linguine sono pronte per essere tuffate nell'acqua bollente, cominciamo subito a preparare il nostro condimento. Olio caldo, padella calda, un aglio in camicia, un peperoncino, perché come di sapori ci sta tutto, forse un po' di più che lo sappiamo che a Dario piace super piccante, e facciamo insaporire tutto, il nostro olio. Mentre si insaporisce bene, poi l'aglio lo togliamo tra un pochino, quando si è insaporito, lo preleviamo dall'olio. Comunque questa ricetta è molto facile e veloce, tutti la possono fare in qualsiasi parte del mondo siate, capito Giorgia? Quando l'olio è caldo, come adesso che si sta insaporendo, ci buttiamo anche il cipollotto, e lo facciamo un po' imbiondire. Nel mentre, già che ci sono, ci prepariamo un cipollotto da mettere a decorazione sopra. Il cipollotto è molto buono, perché ha lo stesso sapore della cipolla, ma molto più delicato, quindi in un piatto come questo, dove c'è il pesce, non ci va ad intaccare troppo il nostro sapore. Molti lo usano tantissimo a crudo, però io trovo anche nel soffretto vada benissimo. Io direi di buttare la pasta nell'acqua che ho già salato, l'aglio è molto fame, quindi stiamo per fare tipo mezzo chilo di pasta, e buttiamo la pasta, ci vogliono 9 minuti. Andato questo, alziamo il fuoco, preleviamo l'aglio, ci mettiamo i nostri gamberi, perché questi hanno un tempo di cottura più lungo rispetto ai gamberetti, quindi cominciamo a cucinare i nostri gamberi. Devono da grigi diventare rossi, una volta che sono rossi sappiamo che sono cotti. Bisogna essere attenti con la cottura dei gamberi, perché una volta andati sopra, sono duri, sono duri da masticare, sono proprio da super buoni diventano, oh mio dio che cosa mi tocca mangiare. Quando le giriamo inseriamo gli altri gamberetti. Inseriti gli altri gamberetti, inseriremo dopo il pomodorino, che così si ammorbidisce un po' ma non lo cuciniamo completamente, le nostre olive, e poi finiamo il piatto, perché gli spaghetti saranno pronti. e in dieci minuti avete fatto una super pasta. I gamberetti si trovano anche sul gelato e hanno dei costi abbastanza buoni. Certo, se poi io prendo i gamberetti in pescheria ha un posto, però secondo me ogni tanto ci sta. Si sta sciogliendo la faccia con l'acqua calda. Adesso che li abbiamo rigirati, ci tuffiamo anche queste. Quando pensavo questa ricetta, e sembravo una pazza al supermercato perché mi fermavo davanti ai corridoi, davanti alle cose, fissando il vuoto, in realtà perché stavo pensando, mi ha fatto pensare tantissimo ai gamberi alla catalana che ho mangiato alla vecchia lampara in Sardegna. Un motivo di più per fare questa pasta. L'unica cosa che dovete fare è comprare pistacchi non salati, non per dargli un tanto un po' di coraggio. Magari ci teniamo mentre ripassiamo da parte questi gamberetti, così che poi li useremo come decorazione. Adesso, in questo momento, aggiungiamo i pomodori, che ci aggiungono anche un altro po' di liquido. Il sugo è fatto, non c'è nient'altro da fare. Tutta questa acquetta, che non è acquetta, ma in realtà sono tutti i gusti dei nostri gamberetti, del comodoro, ci servirà per mantecare la pasta. La scoliamo un minutino indietro, così che possiamo ripassarla nel nostro sugo senza nessun problema di sorta. Allora, ci spostiamo questo qui, questo qui, anche le olive, e il tubito è sfuggita. Alziamo il fuoco, aggiungiamo un filo d'olio. Cominciamo ad inserire soltanto una manciata di granella di pistacchi. Ecco qua, la nostra pasta è pronta. Dobbiamo semplicemente impiattarla. Per impiattare ci aiutiamo, io mi aiuto con una pinza, se avete il forchettone degli spaghetti va più che bene. Se avete un coppapasta, per essere precisi nel disporre la pasta, va anche meglio, sembrerà ancora più ordinata. Quindi, ci prendiamo un po' del nostro condimento. Se poi sul piatto non risulta perfettamente precisa, va benissimo. Ok, ci prendiamo un po' di condimento. L'è grattugiata di una scorza d'arancia. Poi è al gusto, se non vi ci piace non ce la mettete. Due foglioline di prezzemolo, quante me ne pare. Che non stanno su, si stanno ribellando. State su. Poi il re della serata, il gamberetto e una buona manciata di granella di pistacchi. Ancora per finire, cipollotto al crudo. Ecco qua. Io la chiamerei pasta incontro Sicilia-Sardegna-Londra. Perché abbiamo l'arancia, i gamberetti, il pistacchio. Ricorda le gamberi della catalana, ma come anche i sapori della Sicilia. Questa è la nostra pasta. Buonissima! Fatemi sapere come vi è venuta. Ciao! Ci sia, ciao! Ciao!